Un'estate al mare recitava una vecchia canzone di qualche anno fa, quando la crisi non rappresentava un problema e gli estegiani guardavano i nostri migliori litorali come l'obiettivo principale delle meritate vacanze. Ma oggi, che la crisi attanagli un po' tutti i settori produttivi, sono in molti a pensare di trascorrere il periodo di riposo in città. E allora il sindaco di Canelli, Marco Gabusi, ha messo a punto un utrito cartellone di iniziative per intrattenere piacevolmente i concittadini che preferiranno rimanere in città a trascorrere le vacanze tra serate teatrali, concerti della banda e avvincenti tornei sportivi, disputati sulla spiaggia ricreata artificialmente sulla piazza centrale della cittadina. Abbiamo iniziato ieri sera con i tornei di beach volley, beach soccer e beach tennis nella piazza gancia centrale della nostra città. È un campo di 30 metri per 24 in cui tutte le sere da 25 di giugno al 5 di agosto si sfideranno cannellesi e non in tutti gli sport che ho appena elencato. Naturalmente non finisce qui, abbiamo anche quattro serate di teatro all'aperto nel cortile del Gb Giuliano in tutti i weekend del mese di luglio con compagnie di teatro amatoriale piemontesi. Poi abbiamo il concerto della banda il 12 luglio che ormai è diventato un must della nostra città per finire con il 21 di luglio la festa dei commercianti di Corso Libertà che festeggiano come tutti gli anni i loro negozi. Non dimentichiamo che in tutti questi weekend sia del mese di giugno che di luglio rimangono aperte le cantine storiche cannellesi che danno la possibilità ai turisti, a quelli che non hanno ancora visitate, di rendersi conto di quali sono le peculiarità della nostra città e di quello che in queste cantine succedeva oltre 150 anni fa. Ecco, vogliamo ricordare alcune di queste cantine che rimarranno aperte per i turisti? Contratto, bosca, ganci e coppo si alternano in tutti i weekend. Quando è arrivata Canelli c'è la possibilità sia nell'ufficio turistico di cui siamo ospiti oggi che presso tutti degli esercizi commerciali di trovare un calendario dettagliato per poter effettuare le visite. Questo ha un costo a visitare oppure no? Dipende dai weekend, dipende dal gruppo di turisti, un costo minimo in alcune occasioni dipende anche da quello che si vuole degustare e da quanto può durare la visita.